Ok, apriamo? Salve a tutti, sono Alex il biondo Benvenuti in un nuovo video Allora, siamo ritornati nella mia stanzetta Perché oggi è arrivato un pacco Ora, ecco qui il pacco, ragazzi E aspettavo da volto questo pacco Perché all'interno, spero che sia quello che penso Perché mi devono arrivare altri pacchi Poi vedrete in questi giorni Comunque ragazzi, prima di iniziare Spolliciate, iscrivetevi al canale Dobbiamo arrivare ai 50.000 iscritti Lo so, siamo 30.000 iscritti Però mancano 20.000 iscritti Ce la possiamo fare Quindi, seguitemi su Instagram Su tutti i social, Instagram Alex il biondo Ma ora, ecco qui il pacco Ho aperto solo un po' la borsa per velocizzare Quindi Finiamo tutto fuori Ecco qua ragazzi Il pacco Cipisi E quindi ho capito che cos'è Ora vedrete Comunque Quello che ci sarà all'interno Lo trovate Tutti in descrizione Il sito E ora vedrete meglio Apriamo anche qui Dunque ecco qua Il pacco E ormai già avete capito Che c'è all'interno Ah ragazzi Dimenticavo Quello che c'è all'interno E' un regalo E' un regalo che ho fatto io A mio fratello Perciò Ora vedrete e capirete tutto Ecco qua lo scatolo Ecco qua lo scatolo Già avete capito tutto Che scarpe che scarpe sono Guardate qui Ragazzi Queste sono le Air Jordan Ma Cioè Sono Sono belle Come vi ho detto La scarpa è grande Perché è il numero Di mio fratello Più grande E però Cioè Ragazzi Sono belle Ora ve lo faccio Fra poco ve lo faccio vedere Sì Ora vi faccio vedere Sì al sito E poi ve le faccio Vedere meglio Da vicino Comunque Ecco qua Guardate sotto Che bello Ecco qua Questo è il sito C Cipisi Ecco qua Guardate Ci sono tantissime scarpe E ringrazio L'azienda Che me la mandate Guardate Scegliete Non ci sono solo Queste tipo Ecco qua Quella là Che ho Già ho io Con la scritta Su prima Che mi sono arrivate Guardate Quindi ci sono Tantissimi tipi Di scarpe Il sito E Cipisi Trovate tutto In descrizione Ma ora Guardate qui Le scarpe Ecco qui Ora vi faccio vedere Meglio Comunque ho visto Che ci sta Altra roba Ora vediamo subito Ecco le scarpe Faccio vedere Fra pochissimo Vedete che ci stava All'interno Ecco che cos'è Ah Ragazzi un portachiavi Non me lo aspettavo Un portachiavi Della scarpa Bellissimo Carino Dai E Le scarpe Che sono Ah ragazzi Ah ragazzi Pure i calzini Addirittura Anche i calzini Dopo le proveremo Guardate I calzini Due Ecco qui La scarpa Mamma mia Guardate che figo Mi raccomando Andate a vedere Il sito Mi sono arrivato In poco tempo Ragazzi Queste scarpe Si chiamano Air Jordan E Jordan Era Il Diciamo Il campione Di basket Americano E Perciò Ho fatto Questi Vari tipi Di modelli Ora vi faccio vedere Guardate Ora non trovo Questo tipo Però Ci sono Veramente Tantissimi Tipo Di scarpe Come vi ho detto Non solo Se non vi piace Le Air Jordan Ci stanno Vedendo Queste qua Ecco qua Cipizi Il sito Trovate Tutto In descrizione E Ora Non Non le posso Ora proverò A mettere Però Mi hanno Grandi Quindi Sarebbe Inutile Anche I calzini E il portachiavito L'ho messo Mi raccomando Andate su www.cpizi.ru Guardate Questo è il sito Però Trovate Tutto In descrizione Quindi Mi raccomando Ci sono Tantissimi Tipi Di scarpe Ecco qua Ho messo Ah Anche Le felpe Quindi Benissimo Non solo Scarpe Bene Guardate un po' Vi faccio De qualcosina Guardate Sono veramente Bellissime Bellissimi Felpe E pantaloni Tutti alla moda E guardate Un po' Per esempio Questa Supreme Quindi Di vari Colori Guardate qua Questa è Nera Nera Vediamo Ecco qua Vi fa vedere Bene Quindi Mi raccomando Tutti su Cipizi Mi raccomando Ripeto Trovate Tutto In descrizione Ok ragazzi Questo video Finisce qua Mi raccomando Andate a vedere Le scarpe Non solo scarpe Ma anche Felpe E pantaloni Tutte alla moda Guardate Mi sono arrivato Da veramente In pochissimo tempo E Ve lo consiglio Cipizi Trovate tutto In descrizione Ok ragazzi Mi raccomando Spolliciate Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Ok Deve andare Alla prossima volta Con Alex Il biondo Ciao Cipizi Tutti Ciao